Signori, go matcha ball alias puttanaio su schermo Abbiamo la pallonzola che, aspetta eh, la pallonzola che spara Devo provare adesso con il controller, ma secondo me preferisco con il mouse Per fare un sacco di danni in girula e prendermi soprattutto un sacco di danni Aspetta eh, no secondo me col mouse, provo col mouse Ah si, allora si rotola col tasto destro e poi c'era anche un tasto per fare una carica Aspetta, ah si, vado a fare una carica così secondo me, ecco, bravo Con la spinta riesco a devastare anche gli sporchi che hanno una protezione ignobile Bravo, danno proprio la capocciata, me la spissano eh Allora qua si salta, spariamo tutti Sparo Prendo risorse Dove siete ragazzi? Guarda qua, possiamo fare anche queste robe, possiamo salire Tac Ok Denied No aspetta Attenzione arriva alla seconda wave Attenzione Che qua Il puttanaio su schermo è terrificante Va da boom, così Scappa E poi Vai secco Attenzione nooo Allora, come si cambiava l'arma? Giusto Giusto, giusto Perché io ho fatto un tutorial e poi l'ho abbandonato un pochino Eh, le munizioni le pigliamo Andando a fare il crash contro gli schifosi Ecco, esatto Bravissimo Prendi quest'arma qua Non so cosa sia però Nel dubbio Cambiamo Eh, vai, vai a fare una carica qua Carica, carica Bravo Fa un sacco di male comunque Voglio un po' di salute anche, grazie Oh, bello, 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 bello Wow Un po' di mitra Lo sporco qua Attenzione Carica E È talmente tanto bordelloso che Anche questo Bravo, ecco Così Quante wave mi fate fare, ragazzi Questo lo spacchi in due, esatto Poi torniamo qua Il porco, lo vedo Wow Terza wave Aia Iniziano a incazzarsi Schieppo tutto Vado qua Carico Dai, carica la bomba Carica Spariamo un po' di più Comunque boh Un gioco bello frenetico Da fare quando si è freschi, eh Proprio su fine serata magari no Spacca questo Prendi quello Quello che ti serve Attenzione a non fare cagate Carica Lo sporco Lo sporco salta su Quello maiale Però è difficile beccarli Vedi perché è un po' confuso È talmente tanto Bordelloso Ok Ragazzi Sto denied Non l'ho capito Ecco mi hanno cimito C'è veramente C'è Un casino C'è Cristo Allora Non so dove sono tornato Forse sarà l'ab principale Ah questo Il tutorial Che ho fatto all'inizio Giusto Qua ci sono gli upgrade Mi dare gli upgrade Vuoi vedere Hai una pallina A stima Marksman Che cazzo sia sta roba Increase critical chance Ok Va bene Va bene Allora Ability Non abbiamo abbastanza cache Ovviamente Dobbiamo Ributtarci nella mischia Non nel tutorial Ma Nel livello qua Andiamo qua Questo è il livello no? Non era qua Dai Dai Non era qua Allora L'offline Si era questo No? Siamo offline E' questo Entriamo nella pallonzola Però è cambiato lo stage Eh però Ah quindi Non so se sia random Procedurale Di quel tipo lì So che il casino E' sempre quello E anzi Peggiorerò sempre di più Però carica più velocemente La testata Che fai no? O la pallata In questo caso Vai Bravo Cos'è il quack? C'è una paperella Sparo con la paperella Ragazzi C'è la paperella Aspetta eh Ok non so se si è notata la paperella Però è tanto evidente Che è tipo un fucile a pompa Però bello spisso Evita il raggio Attenzione A questi Attenzione Carica E spacca Carica E spacca Carica Evita sta merda Aspetta che devo sempre fare attenzione alle munizioni Salta Questo lo carichi Bravo Lo fai cadere Lo spacchi Bravi Ok Meglio col mouse Assolutamente Col mouse È una meraviglia Col controller Un po' La rottura di palle Guarda che blocca Sti danni Ragazzi Quante wave ci sono però Non me lo dice Volevo generare delle combo Attenzione Le ammo Mancanti Quindi dobbiamo Devastare questo Attenzione alla vita Dai Non fare denaida Stima Bravo Esatto Attenzione a Questo smingarlino Di merda Bravo Questo Lo attacchi così Riprendi le ammo E eviti soprattutto Sti ragnacci lordi Schifosi Ecco Lo buttiamo fuori dal campo Bravo Ok Prendi sta roba Dove siete ragazzi Questo porco Cosa vuole Questo porco muori Level complete Oh no Perfetto Adesso Ci buttiamo fuori dal livello Ne E mi da delle ricompense Le più spisse Ecco qua Una bella abilità Un upgrade Throw a grenade Bello Questa non è male Dealing collision damage Increases rate of fire Ok Quindi Diamo la testata Non soltanto ci da ammo Ma incrementa Il ratio di fuoco Che non è male Ho boost power Però Aspetta Diamoci delle granate Subito passiamo Secondo livello Ah Subito così Ok Attenzione qua Che questi sono più cattivi La mappa è davvero un casino Attenzione a quello Che mi spara di tutto Non riesco Non riesco a capire più niente Attenzione a quello Aspetta Non ho più la paperella C'ho questa roba Che poi Non so A tutti gli effetti A livello di arma Che cosa cambi Se non Una roba prettamente estetica Perché non mi dà nessuna Caratteristica Bravo Spacchiamo Sti Sti migallini Attenzione a quello Wave 2 Attenzione Boom Spaccalo Denied Non denied Ragazzi Bravissimo Bravissimo L'ha buttato fuori dal campo Che reggbata Ragazzi Bravo Prendi questo Non so cosa sia Che sbatti fuori La gente a stima Abbiamo pochissima vita Abbiamo già pochissima vita Non so cosa sia Dove sono I sporchi Ah sono da questo lato Ok Arrivo Arrivo Boom Ok Bravissimo Spara Anche se non ha abbastanza munizioni Però spara comunque Aspetta che me li perdo Perché si nascondono i maiali Attenzione Terza wave Attenzione Cerchiamo di resistere Questo lo devi fare così Bravo Bravo Esatto Gli altri sporchi standard Che hanno Una vita millesimale Un bel colpo Attenzione Pulcini A sti ragnetti qua Soldi E Buttato fuori Level complete Oh Stiamo massacrando di brutto Però Sta bene Bene E qua Si va di nuovo Con un altro Ability Jump and smash down To launch Nervi enemies Into the air Oh Normale Increase collision damage Questo si Allora si Così ci li bombiamo Proprio a sangue Di giro in petto Allora Subito Subito Rotolata E Subito Sferzata di energia Attenzione Rotola Quando vedi che Troppo carico Fai attenzione E Esatto Quello là Se ha pochissima vita Ci dai subito Subito Immediatamente Una zaffata Attenzione a quello Carica la spinta Carica la spinta Evita Subito Ok Boom Evita tutte ste Palle di fuoco Che arrivano Ok Allora Questo Lo devi spaccare Bravissimo Ho già Undici di vita Forse Forse mi ha curato Dalla run precedente Mi sa di si Mi sa che devi conservarti Devi tenerti la vita Per tutta La successione Di livelli Attenzione a questo Che noi Spaccheremo Così Bravo Ragazzi Attenzione che Eh la wave 3 Non sopravviviamo Ma un cazzo proprio Troppo casino Troppo casino Datemi Datemi della salute Oltre A sta sfuriata di roba Madonna Via 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 Boom Ammo Ammo E qua vai sopra Cerca di spaccare questo Non mi ha dato Una frisa di vita Zero Non ti Non ti fa recuperare Nessuna salute Ho della salute Attenzione Ab blocca tutto Spaccalo Spaccalo No Dai 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 Spaccalo Non bloccarmi Tutta sta merda Bravo Mica con 2 di vita Allora Allora Increase gun damage Bene 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 Però con 2 Cioè Ci fa ripartire Del livello qua Con 2 di vita Ok Resistiamo 2 secondi Vediamo sto livello Bello però eh Vediamo qua cos'è sta roba Ah C'è un gattino Allora Ability power 1 Fire power Small ammo Aspetta Perché No Questo Lo posso comprare Questo Costa 200 Lo compro Questo Costa 30 Questo Va bene Compro sta roba Non so cosa sia sta roba Non ne ho la più pallida idea Va bene Ah Qui c'è un gattino Che ci fa fare gli acquisti Bravissimo Ovviamente Ovviamente no Per Pimpare un po' la situa Però Mi ha lasciato 2 di vita Non c'era niente Per Guarda Allora Vediamo cosa c'è qua Wow Wow Proviamo a fare così Esatto La pallonza Il boss Oh no Ma come cazzo faccio Ho 2 di vita C'è Mi ha sparato contro il boss Con 2 di vita Ma stiamo scherzando Va bene Il gioco Il gioco è questo Ma è divertente È un casino Da giocare poco alla volta Perché c'è davvero Un fracasso di roba Su schermo Bisogna essere concentrati I belli spissi Però è divertente Però è divertente E ci vediamo Per un altro gioco Saluti Iiii